Ecco, ecco che c'è città, arriva del fung, e so se neanche chi c'è la camera della Tusa, amica, sono il padrone di qua, sul sole, sul sole addormimi, eh, pensati, pensati, per fortuna arriva il brioche, per fortuna, ma piace il brioche, il profumo che vuoi fare, si fa subito al giorno, si fa subito al giorno, ecco qua il nostro garzone con le paste fresche, mi fa piacere, io tutte le mattine voglio un babà fresco, e poi vedi che tu sei nuovo, non sei insolito, hai bene, ti capisco, perché caro mio, nella vita bisogna lavorare, perché chi non lavora non fa l'amore, e chi non fa l'amore, poi sai che succede, si riduce male, vedi io, guardando, ho già capito che tu sei un uomo frustato, pieno di complessi, pieno di frustate, complessi rock, dark, dunque, ce li hai tutti tu i complessi, e sai perché, 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 perché ti trascuri, ti trascuri e le donne non vengono con te, se non per soldi, quindi uno si deve mantenere bene, bene mio caro, vedi io, guarda, che fisico, ginnico, io ho un viso ginnico, guarda, hai visto, no, guarda le troppo che si consuma, sai perché, sai perché, io mi mantengo bene, ho trovato questa donna che non è niente male, lì sono a casa, e sto tranquillissimo, capito, sai perché l'ho trovata, perché il marito è scappato, non ce l'ha facendo più, il marito non ce l'ha facendo più, il marito non ce l'ha facendo più, lo dico io, fidati, capito, io, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito, benissimo, guarda, sei stato chiarissimo, Per cominciare, io sono il marito della moglie, il marito della moglie, il marito della moglie, ma quale moglie? Della moglie, della mia moglie, no? Della moglie, ma qua è vostra moglie, ma che moglie? La moglie è quella che ha i figli, no? Ha i figli? Eh sì, sicuro. La moglie che ha i figli, ma perché? La moglie che ha i figli, com'è sta moglie che ha i figli? Certo. Dei figli di chi? Di mia moglie, di chi è che grande veste? I figli della moglie, ma che è questo il discorso? Tutto confuso, la moglie che, ma la moglie e i figli di chi ci usate? Tutto qua. Mi sono felice, ti capito? Ah, aspetta, aspetta, ho capito, praticamente, voi, ho capito, bravo, è una cosa normale, perché oggi queste situazioni si verificano spesso. L'importante è che dargli tutto a questi giovani, tutto ciò di cui hanno bisogno, e non fargli mancare l'affetto di quel padre ingrato e migliacchio che è scappato. Ma che è scappato? Tu dici che mi sono felice, ti capito? E mi fa piacere che siete felici, bravo, così siete una persona allegra, contenta, spenzierata. No, sono mica felice per senzio, sono mica contento, sono felice, è felice bianchi, mi sono, mi sono felice bianchi. Piacere, Antonio di Napoli, non tu, Antonio di Napoli. Non tu? Sì, perché non si vede, scusate. Ah, allora lui sarebbe il fidanzato di mia moglie. Il fidanzato di sua moglie? Certo, perché io sono... Della moglie del marito, no? Della moglie... Sì, della moglie di Angela, no? Della moglie di... Ah, la moglie del marito... Eh, ne capiamo, eh. Ma scusate, ma io non... Ma perché, dico io, una persona come voi, una ragazza intelligente come Angela, ma perché non parlarne? Io penso che avrebbe capito Angela, piuttosto che scappare così con un altro uomo. Eh, cos'è? Se ne parlavate con Angela, sarebbe stato meglio, avrebbe capito piuttosto che scappare con un altro uomo. Ma che è scappato? Ma penso di, ma penso di scappare con un altro uomo. Poi, la sua, la sua, limoncello, guarda che mi, la sua, penso di, io, penso di, io, penso di, io, penso di, è capirmi, è capito, che, penso di, è il dono del lago di Coppo, mi. Il dono del lago di Coppo? Eh, come d'oro siete a posto, le corne non vi mancano. Ma che cosa c'è? Ma da quando sei arrivato te in questa casa non si sente altro che urlare, dai! Per forza, è che scherpa, date l'uomo se su a Tomi, pensate. Ma scusa, ma se voi non sapete parlare, non sapete esprimermi. Scusami, cipollino caro, questo qui è il mio ex marito. Sto coso qua è il tuo marito, questo coso qua. Errori di gioventù. Scusami, scusami a lui il cadizzo, scusami, io ne vienete in camia ad andare il culo a tu, questo coso qua. Per prima cosa, questo qui non è più casa tua, eh? E secondo, caro miglio, secondo, siete voi che non vi sapete esprimere, capito? Eh, siete voi che non sapete esprimere i vostri pensieri, non sapete parlare, non vi sapete esprimere in italiano con la correzione. E' tanto da sentire che ti capisci mica, nell'italiano, nell'italiano, nell'italiano. Guardate Antonio, una persona molto, molto colto e preparata, devi prendere esempio da lui. Non vedi, lui sì che è l'uomo tutto un pezzo, eh? L'uomo leale, fedele e di fiducia, mica come te. E poi dai, fammi il favore, vatti a lavare, ma che ti ho spazzato come su no. Appunto, va a fare un bagno che le mei, va. A proposito, che vuole sormiglierà a queste cose da me, perché ha avuto una qui calzoncchimide. Non hai vestito e purta, va, vai sulle sorelle che hai quel coso del luca di quando era finito, dai. Poi, ma le mie ha finito a chi, di mocello? A sapere non dopo, eh? Dov'è che sta a vedere? Quello di cà, l'è dell'alba, vai. Ma, ma sui cartelli, da quando le rivolte che sui cartelli ti scriverterò? Sì, ma mettiamo la segnaletica, mettiamo. Ma dove l'hai trovata, sto papà, qua? Eh! Non ci puoi fare, ma non ci preoccupare, dai. Non cambierà assolutamente niente tra di noi, del resto non potevo non accettarlo qui in casa. Poi, meglio così, almeno sistemiamo la separazione e tutte le proprietà, eh? Eh, certo, certo, ma io non mi preoccupo affatto, amore mio. Io lo so che il tuo cuoricino batte solo ed esclusivamente per me e il tuo pensiero è rivolto sempre a me. Eh, io, mia cara, il giorno non mangio perché penso a te. E di notte non dormo perché tenga una fame che non ci vede, mia cara. Eh, comunque, vedrai, vedrai che andrà tutto bene, così sistemiamo tutto quanto, quando lui se ne sarà andato, certo? Certo, certo. Eh, sì, perché poi, lo sai che invece ci vogliamo troppo bene perché il nostro rapporto è basato sulla fiducia, è basato sul lavoro, sulla sincerità, eh, capito? Certo, certo. E tutti questi valori, come se contano, come se contano. Certo, come sono felice di averti trovato, non lo sai quanto. No, no, non dico a me, non dico a me, guarda, io c'ho una felicità che è quasi una contentezza, anzi, di più diritto, è una cosa fuori dal normale, sai che quando uno che... Ma fermo, 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 sta, qualche sistema è prima a sceglierle al sogno. No, no, lascia prendere, lascia prendere, non ti preoccupare, lascia, io oggi, sai che faccio? Scendo al bar a fare colazione, così se troverò un fiovaraio aperto ti porterò un bel mazzo di rose per omaggiare alla tua bellezza sul cuore, mia cara. Bellissima, è chiamata, eh, ci vediamo davanti, davanti che tu hai bisogno di energie, devi crescere, ci vediamo dopo, eh. Che amore. Eh sì, mia cara.